Ancora qualche ora e poi la griglia di partenza delle prossime comunali dovrà essere pronta, tornata in versione antivirus come deciso dal Viminale. Numero di firme ridotto ad un terzo per le liste, seggi nere e parti covid e scheda da inserire direttamente nell'urna senza mediazione, con uno stanziamento ad hoc per la sanificazione dei seggi. La cartina al torna sole vale anche per le politiche che verranno, gradimento dei partiti e feudi, e così i primi centri da tenere d'occhio sono Taranto e Barletta, non a caso. Michele Miliano è approdato a Castellaneta nell'escorsione per tirare la volata al centro-sinistra, parlando di crepe nella coalizione sul fronte ionico. Il riferimento è all'ex dem Walter Musillo, dall'altra parte, in compenso, Rinaldo Venucci è il jolly dell'accordo con i pentastellati. In ossequio al campo largo voluto da Enrico Letta e poi i civici di Michele Emiliano, quelli di Barletta, costati al PD il commissariamento regionale, ma solo per il congresso, ancora senza regolamento, sono rimasti al fianco di Santa Scommegna e del PD. Ma lì i 5 Stelle non hanno ancora sciolto la riserva e non si sa se correranno da soli oppure con il terzo polo di Carmine Doronzo. Certo, non con il centro-destra di Mino Canito, coalizione larga anche a Galatina. Il centro-destra, attrazione civica di Fabio Vergine, finisce sui tavoli del centro-sinistra regionale con le accusi ai big di giochi di sponda. Tanto più visto che il PD l'ischiera Sandra Antonica, già vice regionale del partito. Il resto servirà a capire l'aria che tira. Nel Barese il centro più grande al voto è Molfetta, ma nel Tarantino si vota anche a Martina Franca e Sava, soltanto a citarne alcuni, termometri insomma, meno di 48 ore per chiudere le liste.